Boom di turisti sulla costa, boom di turisti a Pescara che hanno affollato il Ferragosto, ma i weekend, dal punto di vista del commercio com'è andata? Siamo contenti perché in effetti sì, i turisti ci sono, grazie anche all'aeroporto che ha fatto tantissimi voli, c'è stato un bel movimento. Poi i turisti che comunque hanno gradito la città, ce l'hanno vissuta un po' in tutte le ore, passeggiamo la mattina, abbiamo avuto un qualche giorno di tempo brutto, però loro non si sono demoralizzati e hanno trovato una bella accoglienza. E dal punto di vista degli incassi come la possiamo collocare questa cosa all'interno delle vacanze estive? Dobbiamo dire che abbiamo lavorato, sicuramente nei vari settori, nelle varie categorie commerciali, però abbiamo lavorato e anche la notte dei saldi che poteva sembrare un po' messa lì a caso, invece la notte delle stelle comunque c'è stato passeggio, è tutto a livello molto molto educato, molto di classe, possiamo dire. Ecco, però dopo le vacanze si torna al lavoro e ovviamente arrivano anche le scadenze e queste sono difficili anche da sopportare perché il momento non è dei migliori e ci sono delle bollette che aumentano sempre di più e dei costi che lievitano sempre di più. Sì, siamo molto preoccupati, i costi sia energetici che del gas ma anche della merce perché comunque stanno avendo dei grandi rincari. L'unica cosa che noi ci auguriamo è che comunque lo Stato, visto che ci saranno anche le elezioni, quindi veramente sarà un settembre sottotono e con molta tensione, che lo Stato si metta subito a rilavorare per poterci aiutare con degli sgravi, con degli aiuti anche a livello di abbassamento dell'IVA e io penso che ci debba essere una grande collaborazione sia da parte degli esercenti, delle associazioni e dello Stato. E che magari l'estate possa continuare anche in inverno, con delle manifestazioni che possano anche portare aiuto ai negozianti. Sì, infatti adesso come finiscono le ferie prenderemo un accordo con l'assessore cremonese per incontrarci, dobbiamo fare un programma dove ci deve essere l'autunno, ci deve essere il Natale e da adesso programmarci fino all'estate prossima. Poi i fondi si troveranno, però intanto ci deve essere un programma almeno di idee. E poi l'autunno deve esserci perché comunque deve tornare a piovere, abbiamo tante cose belle del periodo invernale, quindi speriamo in un cambiamento.